Facciamo crepes con creme di cheese, avvocato e salmone, facciamo crepe con formaggio fresco, avvocato e salmone affumicato. Facile da fare, un piatto veloce e fresco per questi giorni estivi. Facciamo crepe con formaggio fresco, avvocato e salmone, facciamo crepe con formaggio fresco, avvocato e salmone, facciamo crepe con formaggio fresco. La gallina fare, unalkanismo fresco, uscifo fresco, un po' di peper un po' di lemon un po' di pepe, limone e timo e siamo pronti per girarli i primi tre fatti